Ad Acicatena tornerà a riunirsi venerdì il Consiglio Comunale per approvare il PUC, il Piano di Urbanistica Commerciale, che sta vivendo un iter più complesso del previsto, prima in commissione e poi con la riunione con le associazioni di categoria, richiesta dalla minoranza con l'ostruzionismo del trio Ursus a Puppo e Giannetto che è andato a segno. Nel frattempo però, mentre su PUC e soprattutto sulla consulta comunale si sta vivendo una situazione di impasse, i lavori del Consiglio Comunale ad Acicatena sono comunque destinati ad andare avanti. Infatti ieri a riguardo si è tenuta una conferenza dei capigruppo ed è stata stabilita una nuova seduta nell'aula di via palestra per votare i riequilibri di bilancio, seduta convocata lunedì prossimo alle 19.30. Rispetto allo strumento finanziario approvato a settembre non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti, previsto solo lo stornamento di poche migliaia di euro. Nei prossimi giorni si torna dunque in consiglio dopo quasi un mese di pausa.